Buongiorno amici, oggi parleremo di un problema che in molti hanno ma pochi dicono Per sitichezza o stipsi si intende la incompleta o infrequente evacuazione con una sensazione di incompleto svuotamento intestinale per infrequente si intende dalle meno di due o tre volte di settimana Esistono principalmente due tipi di stipsi o stichezza, quella primaria e quella secondaria Si parla di primaria quando abbiamo un insufficiente apporto di fibre, di acqua, sedentarietà quindi poi anche zero attività fisica, stress, gravidanza e defecazione rimandata a seguito dello stimolo Poi c'è la secondaria che è una conseguenza a una patologia o assunzione di alcuni tipi di farmaci Per esempio intestino irritabile, ragadi, emorroidi, possibili neoplasie, ipotiroidismo, flora batterica alterata e altre mille patologie diverse Quindi secondo me è un problema che non va sottovalutato E se cominciamo ad avere questo tipo di problema di contattare assolutamente un medico almeno per capire se è una cosa grave o è solo magari un nostro periodo Quindi mai sottovalutare nulla, andiamo dal medico e ci togliamo ogni dubbio Ma ora veniamo ai consigli Bere almeno due litri d'acqua al giorno, sempre il solito consiglio L'acqua vi stufa? Nessun problema Facciamoci una tisana, una tisana calda, fredda, ma beviamo Specialmente al mattino, quando veniamo da 8 ore, 7 ore, dove il corpo non ha assunto liquidi Noi abbiamo bisogno di ammorbidire le nostre feci, anche con l'acqua In particolare posso consigliarvi a metà mattina, a metà pomeriggio una tisana alla malva, che aiuta molto E perché no è anche buonissima una bella camomilla non zuccherata prima di andare a dormire, magari anche accompagnata da due belle prugne Che male non fanno Inoltre ho una domanda da porti Mangia abbastanza verdura? Chiaramente nella verdura abbiamo la fibra, che aiuta lo scivolamento Poi se stessa si gonfia con l'acqua, quindi crea massa fecale, che aiuta lo svuotamento intestinale Quindi è fondamentale la fibra Per tantissime cose utili, tra cui anche andare in bagno con regolarità Possiamo pensare di consumare ogni tanto uno yogurt, un kefir Dei prebiotici, di probiotici, di fermenti lattici Che aiuteranno la nostra microflora intestinale a differenziarsi e lavorare in maniera corretta E il mondo tornerà a splendere Tanto che mi ricordo anche occhi ai formaggi stagionati e all'alcol Attenzione, non esageriamo Quando riscontriamo questo problema di stitichezza, in fase acuta cerchiamo di evitare cibi astringenti Per esempio come il limone, il tè, i frutti rossi, le mele sbucciate, il reso bianco, il cacao Una cosa che aiuta tantissimo è l'attività fisica Anche il passeggiare a ritmo un po' intenso Perché come voi ben sapete l'intestino non è fermo Ha una sua peristalsi, quindi un suo movimento E il camminare, il correre, fare attività fisica Crea un altro tipo di peristalsi che aiuta quella stessa dell'intestino Quindi aiuta a spingere avanti le feci Come integratore vi posso consigliare la crusca di frumento I semi di psyllium che vanno a gonfiarsi nell'intestino E anche lì aiutano a spingere, aiutano a fare massa fecale Ovviamente loro stessi non bastano Bisogna anche, ripeto, bere, fare attività fisica e mangiare fibra Vi ho sempre aiutato l'integratore Non è che l'integratore è magico E come ho già detto prima, anche dei fermenti lattici per biotici e probiotici Visto che stiamo parlando anche di integratori Attenzione ai lassativi Vi devi sempre chiedere al medico perché ai lassativi Esistono vari tipi di lassativi Quelli che fanno scivolare le feci Quelli che aumentano la motilità intestinale Che irritano un po' l'intestino Attenzione perché è un uso eccessivo di lassativi Poi è come se addormentasse l'intestino Cioè l'intestino non riesce più a lavorare da solo in maniera autonoma Quindi attenzione Gli lassativi prendiamoli quando è necessario Senza abituarci troppo al loro uso intensivo e costante nel tempo Nella mia esperienza lavorativa Solo con bere tantissima acqua e tisane Attività fisica e un adeguato apporto di verdura e frutta con la buccia Risolve il 95% dei casi Però, ripeto, in ogni caso, prima sentiamo il medico Anche oggi è finito, spero che questo video vi sia stato utile Se volete farmi un favore iscrivetevi a questo canale YouTube Cliccate la campanella per ricevere le notifiche Inoltre in descrizione troverete i link per tutti i miei social Instagram e Facebook Dove troverete tante notizie sulla nutrizione, tante curiosità E vorrei anche dirvi che ho iniziato una newsletter E se volete iscrivervi a questa newsletter Che vi arriverà presente un messaggino settimana Con un po' di informazioni e curiosità sulla nutrizione Scrivetemi in privato e vi darò tutte le informazioni Per avere questa newsletter gratuitamente Grazie a tutti, ciao